Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione, oggi abbiamo tra noi Android 21 LabCot per la linea SH Fibers dedicata a Dragon Ball FighterZ in edizione limitata ragazzi per il Dragon Ball Games Battle Hour 2022. Allora ragazzi, come sempre vi ricordo che se volesse acquistare questa o tante altre action figure c'è il mio sito Arash Shop e link qui sotto in descrizione, è solo per oggi fino a domenica e attivo il codice sconto BLACK20, tutto maiuscolo, che potete inserire nella sezione coupon del carrello se volete ottenere un bello sconto in occasione del Black Friday, anche su questa figura ovviamente. Comunque, la confezione è questa che tra l'altro è molto figa, nera, io vorrei che la facessero nera per tutte le figures, veramente pazzesca, ma direi di non perdere tanto tempo, andiamo a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Oh, ed eccoci qua ragazzi, con il nostro C21, la nostra C21 fuori dalla confezione, come al solito vi anticipo già che Bandai si impegna maggiormente sui personaggi ultra secondari tipo questo, perché è veramente una figure spettacolare. Adesso vedremo le chicche di cui è dotata, comunque andiamo a vedere gli accessori, partiamo dalle varie manine intercambiabili, abbiamo queste due qui a palmo spalancato, quella sinistra dotata sempre di anello, poi abbiamo queste due qui invece con il dito indice alzato, in cui si può infilare, vedete l'effetto energetico che è questo molto ben realizzato, si infila appunto nel dito indice di una o dell'altra mano, molto molto figo. Poi abbiamo queste due a palmo disteso in questo modo qui, tutte dotate di smalto nero alle unghie, e poi abbiamo queste due qui per varie pose dinamiche, queste qui invece sono delle chicche, perché servono per impugnare gli occhiali che udite udite sono rimovibili. E inoltre abbiamo anche le braccia concerte che non potevano mancare assolutamente. Poi abbiamo quattro visi intercambiabili, questo qui urlante, vedete ogni viso ha le fessurine per inserire o togliere gli occhiali, anche se li togliete i capelli poi coprono queste fessurine, quindi il personaggio è posabile sia con gli occhiali che senza occhiali, veramente una figata. Questo viso ha denti stretti, i visi ricordano praticamente al 100% C18, occhi azzurri, lo stesso disegno, veramente fighi comunque. Poi abbiamo questo sorridente, e poi abbiamo questo invece leggermente più incazzato di quello che c'è sulla nostra figure, che è questo qui, molto simile. Allora, vi faccio vedere subito questa cosa degli occhiali, comunque sono veramente belli, sembrano appunto scolpiti sul viso, ma non è così perché togliendo i capelli davanti, come al solito, si rimuove il viso e vedete che gli occhiali sono un pezzo separato. Basta spingere da dietro, si rimuovono, vedete, in questo modo sono molto piccoli, quindi bisogna fare molta attenzione perché sono abbastanza fragili in realtà. Ecco, si rimette il viso, in questo modo qui, e i capelli. E ecco qui la nostra C21 senza gli occhiali, questa è veramente una chicca, è una figata, pazzesca, non me l'aspettavo. Vediamo comunque il resto dei dettagli, abbiamo questo camice di laboratorio ben realizzato, devo dire, con questa parte in plastica morbida è anche articolata, poi vedremo le articolazioni, anzi vediamole subito perché è veramente figo come è posabile questo camice, hanno fatto veramente un gran lavoro, si può anche chiaramente ruotare in questo modo qui per posarlo di lato. E poi abbiamo, vabbè, il resto dei dettagli, il logo del Red Ribbon qui sulla spalla, gli orecchini anche fatti molto bene su ogni viso, e poi abbiamo anche le scarpe con il tacco, anche queste con la punta dorata, veramente fighe e ben realizzate, sbirciatina sotto la gonna, semplicemente nero. Leggings neri a coprire tutto. Allora ragazzi, vediamo le articolazioni, la testa può guardare benissimo verso il basso, può guardare benissimo verso l'alto, può anche muoversi laterale, benissimo perché nonostante abbia i capelli, riesce comunque a guardare, quindi è un ottimo raggio questo, anche perché i capelli sono articolati giù su, rotazione, chiaramente rotazione laterale, movimento laterale anche questo ottimo, apertura delle braccia, anche questa pazzesca, rotazione a 360 gradi, butterfly joint, anche questa veramente ottima, non si crea neanche il gap, rotazione qui, piegamento doppio al gomito, anche questo è realizzato veramente bene, piegamento al polso, rotazione, a mezzo busto c'è il piegamento, anche questo veramente ottimo, piegamento anche all'indietro, rotazione, piegamento laterale, la vita anche articolata singolarmente ovviamente, apertura delle gambe, piegamento in avanti e indietro, anche questo devo dire ottimo, rotazione, parte superiore, piegamento al ginocchio, questo qui con l'articolazione solita a sfera, però devo dire che fa il suo dovere e non è neanche brutto da vedere, piegamento del piedi su, piegamento del piedi in giù, rotazione, rotazione laterale della camiglia e il piegamento immancabile alla punta del piede, il camice l'abbiamo già visto prima. Misurazione classica dell'altezza e siamo sui 14 centimetri spaccati, ovvero 5 pollici e 75 praticamente, ecco la confronto con il Goku Super Saiyan 2 prodotto da me, Sage Figures, il Rufi Imagination Works, lo Spider-Man Animated Series Marvel Legends esclusiva e il mitico Monessa Spider-Man Marvel Select. Ed eccola qui per il giro d'onore sulla basetta rotante, con gli occhiali in mano ragazzi, è veramente fighissima questa figure, questa è la posa perfetta secondo me. Comunque andiamo a dare i voti, accessori, beh devo dare un 9,5, non c'è solo la basetta, queste 6 figure sono sempre penalizzate di mezzo voto agli accessori perché non metteranno mai la basetta. Poi abbiamo, per quanto riguarda le attivazioni, sono pazzesche, veramente ottime, davvero in tutto, anche il camice è veramente incredibile, 10. Per quanto riguarda le serie ragazzi, è fatta veramente bene, è praticamente perfetta in ogni dettaglio, una pulizia maniacale. Poi mi piace molto anche il design di questo personaggio, di questo nuovo personaggio, veramente molto figa, devo dire. Preferisco questa forma a quella in versione Majin Buu. Comunque anche qui do un 9, do un 9 per l'estetica, non do di più solo perché non ci sono le sfumature. Quindi ragazzi, il voto finale per questa figure di media è un 9, se non anche 9,5, perché è veramente un'ottima figure. Io non la volevo aggiungere nella collezione, ma ora la aggiungerò perché è veramente bella, è veramente una bella figura, anche se non conoscete il personaggio. Va aggiunta in collezione, poi in pieno stile Toriyama ragazzi, veramente spettacolare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa C21 con un commento qui sotto, il like al video è sempre ritissimo, così come anche la condivisione. Vi ringrazio come sempre per la visione. Vi ricordo il codice Black20, attivo solo fino a domenica per usufruire dello sconto Black Friday sul mio sito Arash Shop, il link è qui sotto in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao da C21 e collezionate sempre.